Eeeh, ciao cari sono Atrix, signori, bentornati cari nel canale, regà, purtroppo, ancora la linea mi dà problemi, spero che voi vediate questo video alle 14.30, anzi spero lo vediate anche il giorno di giovedì, spero, inoltre, oggi è tutta una speranza probabilmente, sarà vana, che stasera alle 21 possiamo tranquillamente andare live. Oggi cari il deck che vedrete è un deck che mi ha convinto ancora di più del Quest Warrior e avete visto quanto ha workato bene, me scuso se nel mentre sentirete una voce in sottofondo, talvolta assillante e fastidiosa, che è quella del tatillo, ma... Ce l'ha da fa niente cari, mi sembra che butto la sciorla come un cane bastonata al freddo, quindi me lo so portato con me. Signori, come sempre invito a lasciare un like, a fare un commentino e una condivisione qualora vi piace il video e vi lascio cari per l'appunto al tale, buona visione. Ok cari, ci siamo, ci siamo Tato? Sì, sì. E ora sono molto più tranquillo. Allora, signori, Adonox Druid oggi, ora, io devo essere serio e sincero con voi, lo sto giocando da un po', oggi ho giocato tutto il giorno Adonox Druid, prima di registrarlo, e anche se Windows mi sta facendo rumori strani, oggi cari la linea, non so se c'è la telecom ma è veramente disastrosa, praticamente c'è il deck che mi sta riaprendo innumerevoli volte. Il deck, cari, non sta andando male, dopo quattro partite perse di fila all'inizio, di fila, basta con questi rumori, il deck attualmente ha un win rate di 8-2 dopo le prime quattro partite perse, però non è che sia chiaro, quindi in realtà è 8-6, però dopo Branzo l'ho rimesso, stesso deck, stessa lista e sta funzionando bene, cari. Avrei dovuto probabilmente registrare le partite prima, perché sono state bellissime, però volevo prima recuperare un po' di rank e così è stato, e così è stato. Subito da notare, vedevo di, l'utilità, cari, dell'evocazione della quercia, caro, mi sbaglierò tantissimo col sentiero perché sono uguali ste carte. Io devo veramente contattare la Blizzard in modo da, cioè io ho problemi seriamente a distingue queste due carte, sono palesemente identiche. Ma è vero, caro, c'è stesso Mino, uno diritto e uno girato, ed è particolarmente provante questa cosa, perché poi mi sbagliosa una invece che l'altra. Poi già ho misplay, no, sono identiche, quindi devo stare un attimo attento. E sta carta è fondamentale, non particolarmente penso fondamentale contro Even Roo, Even... Questo è un nivel lock, peraltro, con chi stiamo a giocare? Che Chimerè, che abominio sei! Tarkriber, caro, è un ottimo draw. Mi inviti a spettare, per favore? Ah, vabbè, caro, però, come in live subito, con le richieste assurde. Eh, ma in live non la posso vedere. Cosa stavi facendo qua, altrimenti, giustamente, pure questo è vero. Signori, questo è un ottimo draw. Da notare la combo Adronox con il maestro Quardi Querccia, che non capiterà mai, perché per l'appunto abbiamo Adronox, però... No, però, un cazzo, non capiterà mai, perché tanto noi andiamo a disentirlo divergente, a meno che non ti ho detto la cosa che qua attualmente mi serve, e sentirelo divergente, qualsiasi cosa prendiamo, va bene. Attualmente, ce lo dice Tattillo, che è molto preparato. Cosa ci dà, caro, il maestro Quardi Querccia? A parte dei top deck particolari di quell'unica carta che ci potrebbe dare. Beh, benissimo, è chiaramente... Come potevi. È il Tart Creeper, è il Tart Creeper, visto che il deck, cari, lì sta presa da Colento, con la quale, peraltro, ci ha raggiunto la top 50 in EU, in Legend, gioca solamente un 3-6, solamente un Golem, un Golem, doppio Tart Creeper. E quindi questo è quanto. Ora, sicuramente andiamo di Nourish, e la domanda adesso è se trattare o meno il 4-4. Probabilmente, cari, sì, devo fatere bene in board, è un deck molto particolare l'even, quindi avrà le doppie ametiste, avrà probabilmente... Ovviamente, mi sta avvenendo il dubbio, caro, che questo in realtà sai che potrebbe essere, eh? Lo dica lei, lo dica lei, lo dica lei che io non lo voglio dire, lo dica lei, lo dica lei. Un control lock. Ho detto una stronzata, caro, questo... Nel frattempo si è... Ecco, perfetto. Oggi la linea mi dà problemi, rea, oggi mi dà problemi, infatti anche la live stasera, stasera, voi il video lo vedete il giorno dopo, sarà probabilmente a rischio, perché... Non, caro, tu mi vedi la gara, eh? No. Ecco, sei stato disconnesso dalla partita ripresa in corso. Perfetto. Con capo. Benissimo. Ma finché mi dà solo sto problema, caro, per me va pure bene. Il problema è che attualmente si è tutto stallato e frizzato. Purtroppo giocare a Erston così, che essendo un gioco di skill... Questa è ametista. Non è più ametista. Questa prende una valanga e ti schiaffi in bocca. Allora, cari, il problema è proprio questo adesso, che... Questo è un... Questo è un... Buon top deck. Questo è un buon top deck, infatti lo utilizzo subito. Questo è veramente un buon top deck. L'ho detto quanto è un buon top deck, sì. L'ho detto anche svariate volte. Questo è un buon top deck. Allora, cari, il discorso è questo. Se giocare il coin con l'Innervate per l'Athronox... Questo è un grosso problema. La Rin è un problema infimo. La Rin è un problemone enorme. È l'unica carta che avevo veramente paura. Perché questa... Ci dà veramente problemi. Devo assolutamente, prima di subito, prendere la nostra Ultimate Infestation. Comunque Naturalize non Innervate, come... Chiaramente ho toppato. Chiaramente ho toppato. Ok, io inizierò a pescare, quindi, a sto punto. Inizio selvaggiamente a pescare. Devo assolutamente... Pescare tutto il deck. Perché una volta che noi poi usiamo la combo, cari, si è messi abbastanza bene. Continuo a pescare, quindi vado di un lato. Swipe, non mi serve a niente. Chiaramente questa non la utilizzo perché... Vedi un po', la useremo per pescare. Trade. Trade. Chiudo il trade. Ora, il problema qui è... La Rin. E ve l'ho già detto. Se io riesco, in qualche modo, a mettere pressione... E non fargli usare la Rin, sarebbe cosa buona e giusta. Attualmente Adronox quanti taunt ci dà? È una fillenia Adronox. In realtà no, ci dà due Tarcriber e un Golem. Il problema selvaggio. Il problema vicino, vigliacco. E anche il drago primordiale. Lei ha messo bella merda qua. Questo mi sembra Bontofflec. Però probabilmente vado di mastro. Per mettere bordo. E metto un altro taunt, capito? Però il problema è con il 7-7. Non è un grosso problema in realtà il 7-7, caro. Non è un problema enorme. Se io vado di drago primordiale, in qualche modo mi sento il proprio swipe. Assolutamente no. Turno di merda. Vorrei temporeggiare, cari, prima di usare Adronox. Vorrei per l'appunto avere un po' più di taunt in board. Adronox. Vado? La Rin muore, ma non è un grosso problema il fatto che la Rin muoia. Devo assolutamente preparare Adronox. Mi serve il cubo e mi serve la Witching Hour. Mi servono un sacco di carte. Ma me la puttana. Mi servono tantissime carte. Nurice sarebbe interessante. Witching Hour ce l'abbiamo, attenzione. Mi serve solo il cubo adesso. Attenzione, mi serve solo il cubo, caro, e poi inizio a menà. Ma menà come un fabbro, eh? Sai i fabbri come menano? Quei macelli, no? Quei macelli. Quei macelli. No, quei macelli. Con martello. Vabbè, con martelli. Non mi veniva la parola, era difficile. Ok, cari. La Rinna è morta. È più difficile martello che macete. Non era facile martello, caro. Non era facile martello. La Rinna è morta. Il fatto che la Rinna è morta è buono. Doppio swipe. Eh, ci sta. Non lo so se ci sta, lo sai? Perché non ti piacciono i turni passivi e quindi... Esattamente, voglio mettere Atronox, sì. Tra Yarda, vai. Ma mi piace Atronox. E si milla anche una carta. Cosa fare? Atronox. Regalato, non ho sfruttato la vita. Abbiamo Witching Hour, mi serve solamente il cubo. Lui si brucia una carta. Magari. Gigante di Montagna. Non è papo una merda, eh? Non è papo una merda. È un buon milla. È un buon bruciamento, come si dice. Devo pescare, caro. Devo pescare. Appena prendo l'alti di Team Festation farò un grosso spiore di sollievo. Ma grosso. Perché il turo dopo dovrò giocare Swipe. Se tu hai Swipe, cari, perché me ne sto tenere? Perché visto l'andazzo e visto che lui utilizzerà turni passivi con i sigili delle Rin, sti otto danni faccia, a me non è che mi fanno tanto schifo. Amore mio. Non è che mi fanno tanto schifo. Peraltro abbiamo un altro Bracing Path e potrebbe essere molto buono. Tu no per Swipe probabilmente, dai. Mi sei tu no per Swipe. Anche... Sì, Swipe. Fate male. Uno, due. Pensavo volessi setta all'ametista, invece... La Defile invece non è vera. Ok. Devo un clock per Rin, eh? Già. Due turni. Uh, signora. Uh, buon Dio, cazzo. Ah ah ah. Rida con me, caro. Rida con me. Rida sinceramente divertito, rida. Non stai ridendo, stai mogugnando. Uff. Ufficiale, mamma mia. Che bored? Il problema è Twist in Nethermo. Quindi lui è un iberlof... Il problema è Twist in Nether. Sì. Sì. Ho bisogno di... Ragazzi, abbiamo ancora Nourish e Ultimate Infestation. Twist in Nether me lo posso pure prende. Me lo posso pure prende. Certo, se non c'è Twist in Nether è fottuto. L'avrei voluto bruciare, eh? Perché... Ma quante carte ha bruciato? Tre carte, mi parlo. Non c'è Twist in Nether. No, la giocata è stata perfetta. Perfetta. Come ne esce? Come ne esce con quattro mana? Ametista? Attenzione che noi attacchiamo anche con i 3-6 il turno dopo. E visto che abbiamo l'evocatore lì, incuerciato. L'evocazione. Già sai, no, mi li sbaglio tutti. E per questo ci sono io. L'unico modo che ha di uscire dalla pressione della rina è questo. Riesce con Defile e Fire a tradar tutto? No, che sto dicendo. Dove lo trova il mana, Mattia? Dove lo trova? Defile la usa probabilmente, ma non serve a niente. Infatti. E quindi? Qui, e c'è? Qui? 4, 8, 12, 3, 8, 8, 15, 18, 19. Era l'Italia esatta. GG, caro. Sei contento? Faccia un'esultanza contenta. Allora, spero che si registrata. Spero che la lei non lo like. Perché io non ho pensato a questo. Come la live? La live. Quella live. No, che era una registrazione. Ho detto live. Sbagliato. Va bene, cari. Prima partita è andata. V'ho detto, preparatevi che sto deck mi sta dando delle gioie infinite. A dei counter. Ora, visto che voglio comunque passare il commento deck in Datatilo, vi dirà lui i counter di questo deck. E vi dirà i deck, cari. Caro, tale per cui questo deck è forte. Ne abbiamo parlato prima. Vada, lo esplichi. Ad esempio, il counter, il warrior, perché usa la due mana, due sei. Deve essere un po' più preciso, però. Che tipo di warrior? Odd warrior o quest warrior? Quest warrior. Il due sei. A meno che non te lo gioca un odd, che è dispari, ti ricordo. Quindi l'od è dispari, caro. Quella è due mana. Però tu sicuramente volevi dire che lo prende dal defender. Defender. Certo. Ieri sera è usato otto defender, è uscita sempre. Questo è pure vero. Regà, non so se tenermi alti metto in PlayStation in mano. Devo essere sincero. Oilmastro è molto forte in questo matchup qua. Il problema, che se io levo tutte, è perché voglio trovare wild grow e nourish e la spell a 4. Penso che vado per quel tipo di mulligan. Quindi wild grow, fondamentale. Niente di tutto questo. Niente di tutto questo. La mano di merda. Wild grow sarebbe abbastata e avanzata. La spell a 4 pure, non lo trovo nell'una, nell'altra. Ora, il problema è come partirà lui. Signori, la cosa fondamentale di questo deck è il mulligan, è la curva di mana. Per l'appunto. Lui ce l'ha. Lui ce l'ha subito. Ecco, Atonox peraltro è una carta di merda, perché non mi esce dal master. Hacker. Benissimo. Ecco, fondamentalmente la curva è importantissima. A partire di wild grow, spell a 4, nourish, è fondamentale contro qualsiasi tipo di deck. Ok? Ora lui probabilmente sarà partito... Capirai. Capito? Questa è la curva che ti narravo prima, in precedenza io. Va bene. Andiamo di tar. Avrei giocato altrimenti in l'ululato. Ripeto, se ha anche nourish, potrei pure bestemmiare in modo che Aldo poi deve tagliarla. E quindi siamo sicuri che Aldo si guarda le mie partite durante l'editing. Sì, sì. Aldo è per questo il... Aspetta che porca, porco Malfurion! Maledetto bastardo. Ecco. Ma ti rendi conto com'è partito? Wild grow spell a 4 nourish! Così si parte, ragazzi. Ma dai, ma vada via il coso, vai! Io... Ma tu hai fatto il video per mostrare a chi ti guarda come si gioca il deck. Ci faccio dell'Hitch King! Santo iddio! Se mi gioca l'Hitch King? No, un'altra bestemmia? No, dai! Mi ha giocato solo il drago primordiale, caro. Siamo stati fortunati. Siamo stati fortunati. Witching Hour, niente. Zero. Mi serve un cazzo. Mi devi... Devo pescare qualcosa di forte. Tipo un'altra. No. No. Senti, siamo sulla schiena, siamo fottuti. Mi serve qualcosa. Qualsiasi cosa. Star Creeper, no. Zero. Tutte le carte che servono per questo matchup sono dentro il deck. Peraltro, sì, le due nourish. Ultimate Investition ora non serve più a niente, come ben notate. Perché abbiamo chiaramente la mano piena. Meno male, non c'è il Master Huggert. In quel caso avrei concesso. Avesse avuto pure quello, sarebbe stato... Interessa finalmente. Finalmente, caro. Era... Era partito... Era ora. Era ora. Ora. Buono. Ripeto. Adronox, giocata così, potrebbe anche starci. Perché non credo che lui abbia qualcosa come Faceless o Silence in questo deck. Quanti Taunt abbiamo distrutto? Due Dark Creeper e basta, vero? Sì. Due Dark Creeper e basta. Quindi ancora poca roba. Devo giocare probabilmente caro il Leech King il turno dopo. E... Se riesco traddare il 4-7. Dovrebbe fare il trade lui per traddarlo. Se io parto con Leech King e trade... Non stiamo messi male. Non stiamo messi male. Lo gioco subito Leech King. Subito. Uff. Ok, evito il doppio trade, eh. Quindi se c'è una Swipe deve giocarla. Se c'è una Swipe cari devi spendere 4 di mana per un turno. Quindi anche un Top Deck eventuale di Master o Hackert e GG. Cioè GG. Questo è OP. Questo è OP, amore mio. Questo è veramente forte. Il turno dopo cari andiamo di Adronox. Andiamo di Notorizzazione. Prendiamo due Dark Creeper. E un 8-8. Che non è male. Ametista. Swipe. Ragazzi attenzione che abbiamo il controllo adesso, eh. Attenzione che abbiamo il controllo. Non me lo tratta secondo Leech King e potrebbe essere fondamentalmente GG questo. Avete visto come la naturalizzazione... Perché naturalizzazione? Avete visto come... Come che avete visto? Che avete visto? Che hai visto? Che cazzo avete visto? Avete visto come la Nourish vi ha salvato. Abbiamo pochi Taunt ma abbiamo il Leech King. Che è quello buono. E il turno dopo conteremo i danni pian piano. Forse avete dovuto usare il coin. Ok, benissimo. Benissimo. Dammi un Minion. Non puoi darmi un Minion, vero? Sì. L'Aeron Golem potresti darmi. Uuuu. Quante volte l'ho fatta su un... Tante. Signori. OP. Signori. BOOM. Carola, la puttana, manosca. La sfidra. Come me lo tradda il 10-10? Ha giocato il Leech King lui? Me lo tradda solo con la spell a 5 del Leech King? Beh, no. Perché mo dovrebbe aver preso un po' quella, dai. Su via. Su via. Su via. Ma ma quanto l'abbiamo distrutto! Vada, caro i sulti come prima anche un po' meglio, più credibile. Che è lo stesso di prima. È terribile sto discorso. Signori, benissimo. Sono contento. 2-0. Lui è partito con il Nuts praticamente. Come vi ho detto, la Nourish carta chiave. Carta chiave della partita. Ci ha fatto vincere. Nourish, chiaramente in 2 Leech King, in 2 Atronox, naturalizzazione. È stata una giocata che lui non ha potuto contestare. Ma qual è quello che in realtà lui non ha contestato? Quando ha fatto GG. Cioè la spell del Leech King. Quella che ora è stata fondamentale. Quindi è stata skill-based alla fine. Quella è stata skill-based. Ora, le moto non ci stanno. Comunque andiamo alla prossima. Voglio vedere un attimo da quanto sto registrando. Ancora poco. Signori, facciamo 3-0 e tutti a casa. Grande deck. Nel frattempo stiamo recuperando tanti boss in classifica. Vi ricordo che il Benedictus Quest Priest ci ha fatto arrivare a quel famoso rank di 1.500 e poi pian piano con la buona volontà. E con deck che dopo il nerf stanno funzionando egregiamente c'è sta maripia come che si dice? Lo dica lei caro che lei è più locale. Vada. Ci stiamo riprendendo. No, no, no. Lo devi dire in maniera napoletana come lo sa dire lei. Ma io non sono napoletano. Eh, lo dica in maniera salentina allora. Faccia un po' lei. Salernitana. Senti, dica quello che dice sempre. Ci ripiemo tutto culo con un ustro. Come si dice? Ci ammaripia tutto culo con un ustro. Caglia la puttana che figo è. Ok. Dov'è la mia Wild Grow? E dove? Uuuuh. L'Odd. Uuuuh. Swipe. Quanto è forte. Manna è insufficiente. Vorrei ben vedere. No, no, no. Però la mano è brutta. La mano è brutta. Swipe è 4P. Ma la mano è brutta. Bisogno di Wild Grow e quelli di prima, raga. Carte di prima. Wild Grow e Wagon Summons. Sono fortissime. Anche il Tar è molto buono contro Pala. L'avrei tenuto nel caso in cui l'avessi trovato nel Malligan. Ottimo il Malligan di Rat. Perché Rat contro Lod Pala non serve a niente. Potrebbe anche essere altrimenti aggressivo e fare i Coin Hero Power. O giocare comunque un Drop A1. Che andremo al 100% a traddare. O meglio. In questo caso è impossibile traddare. Nourish. Nourish è buono. Lo sai perché, caro? Perché al turno 5... Al turno... Al turno 4 Swipe. Turno 5 Nourish. Turno 6 Primordial Drake. Potrebbe essere molto interessante. Dobbiamo stare attento alla Fungomante. Al Corridor Creeper. Basta. Queste sono le carte che... E nel frattempo... Nel frattempo spero di pescare qualcosa che possa comunque... Creare un Irly Game decente. Cioè... Anche il Level Up comunque. Level Up... Sì. Level Up abbiamo Swipe, caro, per Level Up. Perché calcola che fa Eropower. Troppo Eropower. Noi andiamo di Level Up. Turno 5 Nourish. Primordial Drake. Purtroppo sì, con Level Up Primordial Drake è una fellenia. Però... Come lo risolve lui un eventuale Primordial Drake? Cioè, capito? Non è che c'ha tantissime soluzioni. A meno che nel deck non ci ha messo... Questa è tutta una cagata. A meno che nel deck non ci ha messo... Cose come... Black Knight. L'arribbe interessante. Black Knight è pari. Bravo, caro. La vedo attento oggi. Bravo, la vedo attento. Allora... Non so se andare a counterare Level Up adesso io. Perché lui fa Eropower. Ora vediamo se fa Eropower. Ok. Easy, no? Wipe, ragazzi, qua è matematica. È matematica perché counteriamo Level Up, puliamo tutto. Grazie, Wipe. Lei è sempre molto precisa e puntuale quando arriva, eh. Proprio... Bene. Sono proprio contento. Eh, turno dopo. Turno dopo. Nourish. Lo sai qual è il problema, caro? È meglio traddare una pedina e andare di... Va bene. Turno dopo dicevi, caro? Ripeta. Nourish. Wipe, io immagino. Anche perché non posso trattare la pedina, quindi... Va bene così. Oddio, in realtà posso trattare la pedina. Ah, bene. Vai in vestiti. No, che schifo. Fa schifo, fa schifo. Fa schifo. Va bene, cari. Stiamo a dieci mana. Il turno dopo andiamo... No, non è vero. Non è vero. Siamo una domanda. Comunque va bene perché abbiamo anche il diaspro. Se lui fa una giocata come Level Up... Ricordami che il Coin l'ha giocato, quindi Tarim può farti fottere. Questa è OP, eh. Questa OP. Non siamo partiti nel video dei modi. Però di certo non me posso lamentare. Ok, vedi il diaspro lo usato adesso. Si chiama diaspro? Sì, siamo. Sì, sì, di aspro. Devo contestare assolutamente una pedina. Witching Hour, niente di particolarmente buono. Io potrei anche giocare a litching, lo sai. Santo iddio. Ma, sai che non sarebbe male litching. Il problema è Tarim. Se litching dà la spell, fai tre danni a tutti. Sono molto indeciso qua. Forse litching. Il problema è Tarim, però, eh. Eh, vabbè, ma Tarim comunque sarebbe un problema col primordial drake. Sì, ma poi metto il litching. Ah. Lui chiaramente va tardato, però. Devo rimuovere qualcosa per Tarim e gli devo dar perlomeno meno value. Caro, mi devi dar qualcosa che rimuove cose. Ho pure tre danni a tutti. Ruba un servitore. Mi dà sempre ruba un servitore Tarim. Ma comunque non c'ha Tarim. Che cazzo dici, cioè? Dal defender. Dal defender. Beh, chiaro. Ma secondo te cosa ha preso dal defender una persona skill-based come lui? Lo vedi? Ma lo vedi o non lo vedi? Eh dai. Io... Hootter! Beh. Beh. Eh, beh, è un cazzo. Quanti tanto abbiamo perso? Nessuno. E' litching. Ma merda. Ah, litching. No, Tarquiver è questo. Ok, questa gara è più mordial drake. Bello il fatto, bellissimo il fatto che non lo valutrata. È fantastico. Come traddo, traddo. È uguale. Non so se traddar lui. Probabilmente sì, dai? Eh, forse... Eh, vai sotto Stoner Science. Vado sotto Science ma non ha 5 danni. Non ha lì. Non ha lì. Noi il turno dopo... Silence Leroy. Non può giocare Leroy. Sì, può giocare Leroy. Vabbè, ho capito. Come fa a giocare Leroy Silence? Che deve giocare? L'Aul. L'Aul... Eh, a 3. Sì, vabbè, ho capito, caro. Era troppo dispendioso. Era troppo dispendioso. Era troppo dispendioso. GG. Perché dico GG sempre nel previsto? Eh, ma questa gara è una giocata OP. Eh. Rupa gli prunzi. Comunque ho sbagliato, eh. Sono un coglione. Ho sbagliato. Dovrei portare con il 3-2 e facevo quattro danni fa. C'è, vabbè, sono un coglione. Eh, no, faccio il power comunque. Mai. Ho sbagliato qua. Comunque è lì da lì tu lo do. Ehm. Boom. Leech King è qui. Leech King MVP della giocata. Facciamo in alto, ma sono troppo carico, caro. Sono troppo carico. E su, ulti, un attimo, come... Ah, così. Oh, lo miro, allora, che ti rea. La faccio rungare. Ah, sì, angolo in due. Ho provato, caro. Ho imitato, ha tentato di imitar il Salentino, ma non ce l'ho fatto. Ma, allora... Che poi non è Salentino, è Salernitario, sono uguali. Sa anche come parlare, sono identiche. Io sono precisamente Cilentaro. Come fai il Salentino? Parli in Salentino. Ma quello è alto, devi chiedere. Ah, hai ragione, quello è alto. Va bene, cari, ce ne facciamo un'altra, noi, eh. Ce ne facciamo un'altra, anche perché, finché se vince, come si dice, no? Finché se vince, Zupp e Pampagnato, no? Il detto con gli storico, non lo so. Non lo so! Senti! Il quadra vincente non si cambia. C'è la natura. No, vai, due, dai, due è troppo. Due è troppo. Uno me la tengo. Voglio una partita con Wildgrove. Skill based. Oddio Belvischere. È una partita, qua, anche la bestemmia, capito? Silenziata. Qua è una partita con Wildgrove, va partita. Contro Eustacchio. Ciao Eusti, che ho detto? Una partita va partita? Ma la partita di che? Eh, la partita partendo così. Vi sto troppo per chi è parte bene. Allora, comunque, cari, questa è un'ottima mano. E soprattutto questo è un ottimo match-up nel caso in cui si aspella. Non ho mai perso contro spell. Ma è a posto. Appena ho detto non ho mai perso contro spell, mi ha dato una seconda naturalizzazione. E ci gioco con quello che vuoi, che la turno dopo mi dà tipo Gesser, Lasser, Whisper. Ok, cari, non parte con segreto. Cosa è buona e giusta? Adronox non è buona. Adronox non è male. Nel frattempo, cari, guardate che l'è schillata. 33% di trovare il migliore. Il migliore è stato trovato. Se mi gioca segreto. Così incattivito. Mi è uscita. Ok, si è frizzato. Ok, è ripartito. Allora, non abbiamo un turno 5. Non è bello. Non è, non è bello. Comunque non è partito molto lento. Non ha giocato segreti per buffare la sua spellstone. Giocato segreto. Baffato la sua spellstone. Benissimo. Senti, allora parlo adesso. Mi dai nourish o wild grow? Lich King. Non sta andando bene quando ho detto... Da quando ho detto non ho mai perso, ho toccato naturalizzazione Adronox, Drago, Redelich. Oh, signore. No, Rexard DK va bene. Va bene Rexard DK. Non mi fa paura a me Rexard DK. E basta, ma da me stai ferlenie, però dai. Beh, insomma, dovrebbe fare un poco poco paura. Ma che mi fa paura? Non mi fa pure niente. Avrei preferito 2-4-2, caro. Però va bello stesso, non mi posso lamentare. Dai, andiamo di Drago Primordiale. Non potrebbero mai uscire 2-4-2. No, come no? Perché no? Perché no? Perché il Drago non fa il suo effetto? Perché il Drago non fa due danni a tutti, ok? Perché non possono uscire 2-4-2? Evoca un famiglia animale. Evoca due se il tuo mazzo non ha servitori. Eh, sono sempre diversi però. Ma non è vero. Ma l'hai detto te sta... Ma è vero. Ma hai detto una cazzata. Guarda, mo ti blastano nei commenti. Sono fatto di vera. Non posso farmi, cari che cazzo, se devo vista padre. Come? Come è carino. Quelle frisi di trap, non posso... No, quelle frisi di trap. Questo è chiaramente un dram. Quelle frisi di trap e non faccio alcun cheio. Prego, caro. A lei, a lei la parola. A lei la parola che ci abbiamo dato. Il patto rovinato, che si dice? Della rovina. Il patto rovinato. Che poi c'è anche scritto. Allora, cari. Siamo arrivati in quella parte di partita. In cui lui deve assolutamente trattare questa board. Ma tratterà una board che poi mi rientrerà in campo più incazzata di prima. Attualmente mi rientra un 3-6, un 8-8 e un 4-8. Prenderà qualcosa tipo con rush e veleno. Niente di tutto questo. Bella e roll, eh. Bella rollata. Tratta, tratta tutto, caro. Tratta tutto, sì. Tratta tutto, tratta tutto. Eh, non tratta tutto. Eh, perché l'hai fisi in trappone, quindi. C'ha pure ragione. Ma che bene frega a me. Ma. Senti, brocchiamo sta freezing trappo? Eh, brocola. E poi rigiochi il primordial? Ok. Fammi ragionare un secondo, però. Teppureggio, cari. Voglio altri, voglio altri taunt. Niente taunt. Questo è buono. Allora, setto il... Lui per il turno dopo. E... Questo è molto buono. Ci dà il Tar Creeper. È molto buono. Abbiate veglia. È buonino, è buonino. Ci dà il Tar Creeper. Basta. Solo quello. Nel frattempo, da notare che abbiamo... Occhio perché... Non è vero, è una stronzata. Occhio perché non abbiamo il primordial Drake. Perché se faccio una cosa come Sap, muore. Quindi non abbiamo assolutamente il primordial Drake. Ok. Avrox. 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 Tutta la vita. Con tutti i danni carichi e poi questi qua ci ripiamo. Ok. Oddio, a meno che non mi esce il secondo primordial Drake. In quel caso lo gioco subito. No. Temporeggiamo ancora? Se no sto marcio non serve più un cazzo. Mastro. Che marcio? Mastro, mastro. E vedi tu? Non... Boh. Perché non ho ancora il cubo. Vabbè, il cubo lo peschi dopo. Vabbè, dai. Finito. Prego, caro. Bocca al lupo. Si riparte. Uh, signor sì. Uh, signor sì. Anche se comunque, purtroppo... Sì, per quanto fosse forte lo scudo... Andiamo sempre contro i veleno. Quindi andrà giocato questo quando la nostra board è stata abbaffata dal secondo Atronox. Molto probabilmente. Non penso abbia una risposta veloce per questo a bordo qua. Tratterà sicuramente il Leech King. Per farlo ho bisogno di trattare tutti e tre pezzi. Che è buono per noi. Dopodiché, molto probabilmente, andremo a vedere che cazzo di segreto ha in mano. Ha in mano. E poi, vediamo, probabilmente parto con un lato. Devo prendere cari il secondo... Il secondo. Devo prendere il primo cubo. O la seconda Witching Hour. Comunque, so carte che mi serviranno tantissimo per chiudere subito la partita. Io penso che lui sta prendendo tipo rifornimenti di bestie con life seal e veleno. Sto convinto. Oppure non sto trovando niente. Oppure non sto trovando un cazzo. Trade, trade. Ok. Trade. Fallo, fallo. Benissimo. Potresti pescare con un lato, così puoi attaccare il 3-6. Attivi freezing. Sì, una giocatina, però un po' così, caro. Una giocatina un po' di merda. Ah, grazie. Scusa. Avanti, compagni, all'avventura! Mi sta laggando talmente tanto che i miei servitori non attivano subito l'effetto. E la cosa mi fa imbessialire. Ok, l'attivato. Passo. Abbiamo tutto il tempo del mondo. Vai tranquillo, caro. Abbiamo tutto il tempo del mondo per risolvere il suo voto, che peraltro è la nostra più grossa. Non avendogli lo poveri di Rexxar, è chiaro che a noi non ci pesa essere passivi. Che poi i passivi un cazzo, nel senso che questa è una buona giocata. Attaccherò il 5-4 col 5-5, procco freezing, trap... Oh. Oh, cazzo. Ma in realtà... Con questo abile è top deck. Questo è buono. Già. Parto di rullato. 9 carte, me ne torna una in mano. No, io in realtà voglio il 3-6, non voglio il 5-5. No, in realtà voglio che voglia il 3-6. Freezing trap, fino a là c'eravamo tutti. Trade. Trade. Passo. No, cazzo passo. Trade. Perché dovrei passare? Perfetto. Allora, raga, penso sia abbastanza buono. Aspettiamo, ripeto, il nostro cubo e abbiamo vinto. Non può far più niente. Non può mai contestare una board fatta con tutti quei taunt. Però, certo, dobbiamo aspettare il cubo. Oddio, a meno che non prende veleno e pipistrello che quando muore infligge due danni a tutti. Sì, però deve poi avere un'altra ondata di roba, insomma. Non è facile per lui. Nel frattempo poi gli faccio un po' di danni, io, peraltro. È giusto per tenerelo sul chi vive, un po' deve assaporare. Proccherà chiaramente l'explosive. Che cazzo c'è che ti sono? Un'altra freezing può essere che c'è? No, no, che attacco, vengo lui. Ho sbagliato. Erratissimo. Immosserrante. Eeeh, perfetto, cari, abbiamo tolto tutto. Allora, io devo assolutamente trovare sto maledetto cubo. Quindi mi dà il cubo, per l'amor di Dio. Mi dà il cubo. Vieni. Vabbè, comunque, cari, andremo di Wiching Hour, naturalizzazione, visto che il cubo tanto non ci esce. Abbiamo comunque la seconda combo con Wiching Hour, quindi devo dire che va bene. La cosa che mi preampi di tutto era, per l'appunto, levar quella board. E levare soprattutto i segreti. E abbiamo fatto il turno per levare i segreti. Levar board e ripartire con 4-6, comunque non è proprio roba da poco. Il problema è andare... No, non è vero, non c'è alcun tipo di problema, perché tanto il Leeching ci dà la spell. Adesso non mi dà troppi disagi. Mettere l'arma? Mettere l'arma, chiaro. Nervoso! Nervosissimo questo qui! È incazzato da una velva! Dammi il cubo, dai! E dammi sto male, e dammi sto cazzo di cubo, carissimo, dai! In realtà potresti pestarlo con sentieri... No, sentieri mi sa che vado a baffare, caro. Va bene. Ovvio, poi me lo darà a sto cubo, dai. Vivo, poi me lo darà per forza. E però adesso ti serve pure l'altro da Wiching Hour. Vabbè, ho capito, sì, ci manca 6 carte, caro. Un piccolo a bordo. Ok, cioè nel senso, devi risolvere sta bordo di prima. E nel frattempo il Leeching, vabbè. Capirai. Cioè nel senso, se rimane sta bordo è in influente la nostra mano. Se rimane sta bordo abbiamo vinto. Sono quanti anni sono una valanga. 4-8... Quindi l'unica soluzione che c'è è aver rollato... Wow. Ok. E ha tradato una. Quindi non c'ha la combo con il pipistrello, eccetera. Ok. Ma ma che dispendio di energie per quei poveri Leeching! Ma che t'han fatto di male! Che torneranno più in cazzo di vita. Sì, infatti. Tornano. Che poi torna il cubo, ritorna la situazione. Regà, il Leech è una figata. Il Leech è divertentissimo. Quanti danni abbiamo il turno dopo? Una valanga, no? Calcolate che 4... Solamente con 62 abbiamo 16 danni. Ok. Tadderà probabilmente il 3-5. Hai l'Ital? Sì, sì. No. Come no? È l'Ital, è l'Ital. Sono 4-8. Sono... 4-8-12-16. 4-8-12, quindi 18-22. Beh, comunque, caro, è tanta roba. Non ho attaccato. Non ho attaccato. Bene. 4-8, iropower, no? Sì. Però attacca il mio progetto. Chiaro, ma che motivo di te? Eh, eh, no, ma te lo dico di distrazione. Ah, addirittura... Avremmo vinto anche con sentiero divergente. Però faccia più figo, caro, prende qua del Leech King, no? Beh. Da, va. Ragazzi! 4-69, sto facendo una scalata terribilmente bella. Perché io, caro, voglio rifare il secondo mezzo del top 200. Perché mi hai preso te? Per ragazzini, no? E quindi, cari! Io spero, realmente, che il video mi sia piaciuto. Pensavo, sapevo che il deck era forte, ma far quattro partite e far subito 4-0, per me, caro, è molto galvanizzante. Ora, nella speranza che stasera riuscirò a far live, ma tanto questo voi già lo sapete perché lo guardate il giorno dopo. Io, cari, vi saluto. Io vi ringrazio. Vi chiedo, vi ricordo, di mettere un like al video, di fare una bella condivisione. Ringrazio il Tato, che è sempre, caro, molto d'aiuto, c'è stato anche oggi. Eh, lo so, lo so. Nel mentre, cari, un buon proseguore serata. Un grosso abbraccio. È bella. È bella. Grazie.